Dueville entra in autostrada sulla A31 ma è ubriaco. Si dirige verso Rovigo però deve andare a tiene e quando si accorge di aver sbagliato direzione, all'altezza di Albettone fa inversione. Allungare scatta la segnalazione della macchina in contromano. La polizia stradale con una safticar rallenta i veicoli di passaggio. Poi la vettura viene avvistata all'altezza di Torri di Quartesolo dove con la massima prudenza viene bloccata. A bordo un serbo 31enne in stato confusionale. Per lui scattano una denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. Zermeghedo, individuati i capetti della Baby Gang, due quindicenni, ritenuti gli autori degli atti vandalici avvenuti in paese negli ultimi mesi. Uno è di Zermeghedo, l'altro di Montorso. Sono stati ritenuti responsabili di avere piegato e rovinato i segnali stradali, distrutto con un petardo la chiavetta di ricarica della casetta dell'acqua, devastato l'albero di Natale delle scuole e incendiato alcuni cestini per i rifiuti. Convocati con i genitori al comando di polizia locale ad Arzignano, i due sono stati messi di fronte alle loro responsabilità. Spetterà ora al sindaco Luca Albiero se chiedere i danni alle famiglie o se far svolgere due quindicenni alcune ore di attività di pubblica utilità. Cornedo, una donna come tante seduta nell'ufficio postale di Via Tassoni. Improvvisamente avverte un forte dolore al petto. I clienti e i dipendenti cercano di capire se è solo un malore passeggero, ma quando capiscono che si tratta di qualcosa di serio lanciano immediatamente l'allarme al 118. I carabinieri e i medici intervengono tempestivamente, ma non c'è niente da fare. La donna muore a 79 anni.